400 over 80 con fragilità e con difficoltà motore vaccinate a domicilio nelle prime due giornate della fase sperimentale del servizio a cura dell'Astra e dei medici di medicina generale in provincia di Brindisi. 260 gli utenti raggiunti nel primo giorno del servizio e 140 nel secondo. L'avvio ufficiale della vaccinazione domiciliare è invece previsto per il 6 di aprile. In pratica ognuno di noi verrà a ritirare qui le dosi che sono per il momento un massimo di 6 e dovranno essere somministrate nell'arco di 6 ore in quanto il prodotto poi non è più efficace. Prenderemo tutti i dati delle varie vaccini, andremo a domicilio, abbiamo già preinformato i pazienti sul significato e sui problemi che possono portare i vaccini che in realtà sono veramente risori. Procederemo con la vaccinazione e poi successivamente il report lo porteremo da capo qui per registrare ciò che è stato fatto. Aumentano intanto i ricoveri nella provincia di Brindisi. Su 1727 soggetti positivi, 143 sono ospedalizzati, di cui 11 in rianimazione. Nei post-covid sono invece occupati 12 posti tra gli ospedali di Mesagne, Ceglie Messapiche e Cistarnino e ne saranno ora disponibili altri 36 nel PTA di San Pietro Varnotico.